Energia e Ambiente, quali sono le opportunità che questi settori offrono alle nostre imprese? Chiaramente sono uno dei settori che teoricamente hanno maggior sviluppo nel futuro per l'aumento dei consumi energetici nonostante la crisi di questo periodo. È un settore peraltro in cui l'Italia eccelle, eccelle nel nostro paese, eccelle anche nel mondo. E naturalmente ha bisogno di condizioni per cui si possono sviluppare questi settori. Come sa Milano è nata una grande industria, cioè una somma di piccole e medie industrie nel campo del risparmio energetico, della cosiddetta green economy. Ma non dimentichiamoci che abbiamo tutte le strade di ingegneria e di impiantisti che sono le più grandi del mondo e le più affermate del mondo. Quindi il problema fa ripartire questo movimento e occorrono regole chiare più che risorse, regole chiare e costanti nel tempo.